Io sono Claudia Ricciardi, consigliere dell'Ordine di Roma, delegata ai concorsi di progettazione. Oggi c'è stato un incontro con gli assessori circa il tema dei concorsi di progettazione che auspichiamo possano diventare veramente uno strumento ordinario per selezionare progetti e proposte di qualità per intervenire in maniera fattiva, ma soprattutto in maniera qualitativa sul tessuto urbano, sul territorio, sugli spazi pubblici, sugli spazi di relazione e chiaramente sulle opere pubbliche. Con l'Ordine in questi mesi abbiamo lavorato ad una piattaforma telematica, una piattaforma che può essere di supporto sia alla stazione appaltante che chiaramente agli operatori economici grazie alla quale sarà possibile espletare i concorsi di progettazione. La piattaforma si chiama Kenna che un po' rimanda non solo all'acronimo di Competition Architecture Network ma anche all'idea di poter intervenire, di poter concretamente realizzare progetti sulla città, di poter immaginare la città perché in questo momento possiamo e viene da dire soprattutto dobbiamo. Quindi l'Ordine si sta impegnando in questo senso, stiamo lavorando anche ad un bando tipo, ci stiamo impegnando su delle tematiche specifiche che riguardano i concorsi, soprattutto sull'affidamento della direzione dei lavori successivi appunto alle situazioni del concorso, sul grande tema di alimento e veramente imprescindibile della giuria sui requisiti speciali. Quindi il lavoro che è stato fatto è molto, speriamo che ci possa essere congiuntamente alla pubblica amministrazione un rinnovato utilizzo e soprattutto una narrazione anche culturale rinnovata dello strumento della procedura del concorso di progettazione affinché questa possa diventare uno strumento assolutamente orizzontale, assolutamente ordinario, non quindi riservato solo alle grandi opere ma soprattutto e anche alle più piccole per garantire una qualità diffusa sul territorio urbano. Grazie. Grazie. Grazie.